La legge sul giorno del ricordo ha avuto il merito di muovere definitivamente la cortina di indifferenza e persino di ostilità che per troppi anni ha avvolto le vicende legate alle violenze contro le popolazioni italiane vittime della repressione comunista. Negli ultimi decenni la ricerca storica ha prodotto risultati notevoli, scandagliando a fondo gli avvenimenti e riportando alla luce una mole impressionante di fatti, documenti e testimonianze inoppugnabili. Via via sono emersi i nomi e le vicende delle vittime. La furia dei partigiani titini si accanì in modo indiscriminato ma programmato su tutti, su rappresentanti delle istituzioni, su militari, su civili inermi, su sacerdoti, su intellettuali, su donne, su partigiani antifascisti che non secondavano le mire espansionistiche di Tito o non si sottomettevano al regime comunista. Le sofferenze subite dai nostri esuli, dalle popolazioni di confine, non possono essere motivo di divisione nella nostra comunità nazionale. Al contrario, devono essere richiamo di unità, nel ricordo, nella solidarietà, nel sostegno. Ripetendo lo stupore e la condanna per inammissibili tentativi di negazionismo o di giustificazionismo, segnalo che il rischio più grave di fronte alle tragedie dell'umanità non è il confronto delle idee, anche di quelle estreme, ma l'indifferenza che genera rimozione è obbligo.